salve a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video sul mio canale allora come potete sapere il mio canale da adesso si chiama gamble reaction and stories ovvero che farò farò allora che farò praticamente farò praticamente delle reaction ai video che consigliano tutti gli youtuber e praticamente faremo anche gli episodi su story of the channel quindi non parleremo di gaming quindi in questo video volevo salutare i miei iscritti volevo salutare matomorfella volevo salutare anche spiderman channel volevo salutare spiderman channel chrisia tv lori 07 1 tv italia archiv e ismaele channel tv grazie ragazzi continuate sempre a seguirmi comunque oggi ragazzi andiamo con l'ottavo episodio a conoscere la storia di cartunito oggi ragazzi abbiamo veramente tempo per sapere che cos'è cartunito ed eccolo qua oggi lo andiamo a scoprire insieme allora io l'ho visto cartunito perchè è un canale che mi guardavo da piccolo ma adesso mi guardo boeing che è un canale perfetto per me dai andiamo a vedere su allora dai già cartunito è un canale televisivo ivo tematico italiano gratuito edito dalla società e poi gspa è visibile sul canale 46 del dtt del digital terrestre al lux 27 2 star cartunito era presente come contenitore sul canale mediaset boeing nel 2011 dalle 7 30 alle 8 45 dal 2 agosto 2011 un canale autonomo è uno dei canali tematici cicli gratuiti sul digitale terrestre il voto molti bambini da parete scolari con 24 ore di programmazione giornata era dedicata accanto il tuo propone un po di sesso come con cartoni animati come il treno thomas bellino insomma il torpani lavando il club e tante serie di voi come le città una fino a qualche anno ed è tommo già il show dal 27 agosto 2012 il canale ha cominciato a trasmettere parte della sua programmazione nel formato panico 16 noni dal 10 luglio 2015 quasi quattro anni dopo il lancio ciò sul digital terrestre cartonito da disponibile anche sulla la televisione sanitaria sulla piattaforma tv sat che assegna la canale a posizione la posizione 29 la voce ufficiale di promo è l'orella del luca dal 2011 anche se tra il 27 maggio e il 28 2017 fu stata sostituita temporaneamente da patizia mottola e gianluca iacono l'operi nei promo di 20 entr smessi nel 2019 per la cartoon top invece la speaker è sempre l'orella del luca il 14 generale 2016 per la riorganizzazione del bouquet tv sat il canale passa dalla lcn 29 alla lcn 41 il 3 il 3 luglio 2017 mente cartonito dottore che styling che si che però si completa il 2 maggio 2018 date in cui vengono sostituite totalmente tutte le grafiche vengono obsolete vengono nomati il sito e il logo che adattato 16 anni in passa a quattro terzi anzi con gli occhi non più un viola ma neri e al posto della cartonito dance vengono messi si cinque bumper più adatti e ragionati come buongiorno buon pranzo buon pomeriggio buona senata e buona notte non dico in smr perché è bellissimo allora se prendo me sto da 9 ferrari 2000 scusate scusate ragazzi non sono stati qua passimo non a chiamarmi continuiamo dal 9 febrile 2018 la diretrice del canale dice vedere la stessa cosa vale per il suo calore affilato boeing dal 8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 viene adottata una grafica speciale per il periodo natalizio mentre giugno 19 1 per l'estate non dice lui nel 2019 con la nascita di boeing plus alcuni di contenuti vengono trasversi all'interno e come brand brand block è così era la serie di costruito palinsesto aveva bisogno di tutto spai di terbore troviamo tra il test 8 notes ecco e così termina il palino allora va l'azione durante la prima del canale dal primo avventura agosto 2011 il logo di cartonito era trasparente in basso a destra dal 22 agosto assume i coloni a due e si sposta in alto a destra fino al 2016 durante il periodo di natalizio appariva all'addestra del logo il cartonito scubo con la torre in sé un nastro giallo e sopra un fiacco in modo di recebire un pacco regalo il 22 agosto 2016 per festeggiare i cinque anni nel canale mi ho introdotto un logo speciale accanto al logo compagno a una cuba una torta di cumpleanno con sopra di esso una cadera a forma di cinque il 2 ottobre 2017 in occasione della festa dei 9 sono apparsi due o o un paio di occhiali da vista con sotto la scritta anguri nonni dal 2017 al 2018 donato il premio del natalizio appare sopra le o un cappello natalizio un cappello natalizio dal 20 e 9 dal 2018 appare in occasione della Pasqua il cartonito stella che fuoriesce da un uomo di cioccolato il quale del 2019 invece appare tu a natale 2019 al sinistra del logo appare in due palline natalizio e stella tutti e tre appesi da un filo a un filo con un fiocco in questo periodo donata la pubblicità torna il logo normale il 19 marzo 2020 giorno della festa del papà il logo si atterna con tondo con dei baffi che affia addosso che recita la scritta auguri papà bellissimo bellissimi loghi applicazioni cartonito giochi divertenti cartonito che idea la mia prima app cartonito app ecco qua ok ecco questa qua abbiamo i contenitori che ve li dico il film il film è vero il londel venerdone il 19 e il 15 alla domenica alle 20 come ho sbagliato i film delle serie di onda sul canale piccole pesti crescono scuola il mondo tutti i giorni nel 10 e 30 con dei appos family Pilegri Zileming editor con il titolo tutta la sfera la palina giola e il cubo il cubo rosso la fiava di cartonito carellito balla con cartonito canta con cartonito e poi piacete niente direte a papà direte a mamma scuola speciale cartonito i miei migliori amici il mio primo il mio primo cinema gira per il mondo caso di uscire casa maratonito maratonito che poi è diventato il mio primo natale il mio mini safari piccole pesti dei carnevalito cartonito pausa zero e poi cartonito dance m'affanculo e poi ascolti le mascotte ecco le mascotte ragazzi fino a prima le mascotte ufficiali anni del canale sono i cartoni tosse sei personaggi che non aspetta di forme perché con occhi e bocca introducono di volta oltre in volta le serie non da cubo 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 l'osso spera la panina gialla angolo il triangolo blu dunno la ciambella verde stella stella rosa tubo il cilindro viola l'altro anno del 2017 è una occasione del restyling grafico del canale il cattolito scambio respetto non parlano più poi abbiamo anche infatti infatti c'è un problema a cartonito aveva anche i merchandising però non ci sono più no che cazzo ho fatto ma fa culo ho fatto una cosa fa venerate cartonito le voci correllate e ragazzi domani cominciamo la rai con il nono episodio su rai io e niente e poi i collegamenti star e niente spero che questo video vi sia piaciuto dire di chiudere con il logo di cartonito niente spero che il video vi sia piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale attivate la cappella e niente al prossimo video gamble fans